Sono un abitante di Lazaretto. Io volevo chiedere alla signora Marzi se è vera la notizia che stanno ristaurando la caserma per ospitare 60-70 immigrati, solo uomini. La struttura della quale parla la signora è effettivamente una casermetta, una caserma non così grande, i numeri dei quali si può pensare di parlare per l'accoglienza in quella caserma sono decisamente inferiori, nel senso che si è parlato di 40-50 profughi da poter ospitare lì, ma soprattutto, ricordo la signora che credo abbia sentito più volte dire questa cosa, la scelta di quel luogo non è stata assolutamente una scelta partita dal comune di Muggia. D'estate ci sono le ragazzine che vanno al mare, che hanno un copricostume, che sono ragazzine che sono sulle piazzole a seno scoperto. Questi ragazzi, visto anche i fatti di Colonia, non sarebbe opportuno valutare questa situazione prima di avere un intervento purtroppo dovuto a, non so, una disgrazia. Il sindaco ha più volte incontrato il prefetto per dare la nostra opinione negativa proprio sulla scelta di quel luogo, proprio per i motivi che ha citato la signora, di vicinanza a luoghi turistici, eccetera, ma anche e soprattutto perché quel luogo è un luogo isolato, è un luogo isolato e nel momento in cui si vuole fare un'accoglienza che pensi anche a un'integrazione, quel luogo non è un luogo adatto.